buongiorno a tutti allora pensavate vi lasciassi senza schedine bollettine ne facciamo subito ma prima come sempre la magliettina che direi che è perfetta di pozzettone nostro nel ragazzo di campagna con la scritta che ci vuole ahimè perché il periodo diciamo che si presta per quella frase lì ma veniamo alle schedine e bollettine uniche sì schedina e bollettine perché sono due schedine e le solite sei bollette campionato tedesco è l'unico che è ricominciato se non sbaglio e quindi andiamo a vedere le partite che si giocheranno venerdì sabato e domenica quindi c'è la partita anche del venerdì ahimè però io ve la metto lo stesso poi vedrete voi che cosa giocare eccetera partiamo con la schedina bayern monaco eintracht 1 borussia monce blanbach bayern leverkusen 1 2 bosburg borussia domenica 2 partita di venerdì erta berlino union berlino 1x mainz lipsia partita di domenica 2 friburgo berder brema 1x sempre partita di domenica colonia dusendorf 1 sempre partita di domenica e padermont offenein x2 partita di sabato le ho così in elenco da elenco skycavo scandona stampato la settimana scorsa ve ne aveva fatte già tre giornate una dietro l'altra quindi non c'erano c'erano gli orari classici delle 15 e 30 e basta invece me le hanno divise però non sono stato a ristampare un'altra volta non sprechiamo carta veniamo alla schedina alternativa me la sono un attimino ha rischiato un po di più questa volta bayern monaco entra francoforte over 2 e mezzo borussia monce blanbach bayern leverkusen gol un po rischiato ma ci può stare bosburg borussia dormann over 2 e mezzo partita di venerdì erta berlino union berlino over 1 e mezzo mainz lipsia over 2 e mezzo friburgo berder brema over 1 e mezzo schalke 04 ausburg over 1 e mezzo un po a rischio perché il dusseldorf fa una fatica boia a fare gol comunque colonia dusseldorf over 1 e mezzo e padermann hoffenheim over 2 e mezzo vediamo vediamo alle bollettine del gigione partendo dalle fisse bosburg dormann 2 schalke 04 ausburg 1 mainz lipsia 2 colonia dusseldorf 1 con 5 euro 45 euro e 67 bollettino alternativa bosburg dormann x2 schalke 04 ausburg 1x mainz lipsia 1 colonia dusseldorf 1x con 5 euro 13 euro e 59 scusate un attimo bene possiamo proseguire con l'opzione perché naturalmente visto che la cifra 13 euro e 59 veramente ridicola 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 come direbbe qualcuno per i più coraggiosi si potrebbe rischiare un bosburg dormann 2 schalke 04 ausburg si lascia l'uno x mainz lipsia si lascia il 2 non l'uno il 2 il 2 scusate ho messo l'uno erroneamente ma è 2 mainz lipsia e colonia dusseldorf 1x e in questo caso con 5 euro se ne vincerebbero 19 e 81 non so come mai ho messo mainz lipsia 1 vabbè lapsus frediano come si suol dire quindi ricordatevi anche per quanto riguarda la prima bollettina mainz lipsia e 2 vediamo vediamo alla terza bollettina del gigione quella con la doppia in over bosburg dormann x2 più over schalke 04 ausburg 1x più over mainz lipsia 2 più over e colonia dusseldorf 1x più over con 5 euro 20 euro e 30 naturalmente non sono stato lì a farvi volendo si potrebbe fare così 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 cosa perché io come sapete dico sempre meglio pochi che però so che a molti vincere cifrettine piccole non piace quindi per i più coraggiosi volendo si potrebbe aumentare un over a due e mezzo su alcune partite che vi fanno un libido oppure oppure eliminare qualche doppia per dire un mainz lipsia 2 più over ci potrebbe stare però però ripeto meglio pochi e portarli a casa che non rischiare poi vi girano le balle quarta bollettina al gol casa gol ospite bosburg gol casa schalke 04 ausburg gol ospite mainz lipsia gol casa colonia dusseldorf gol ospite con 5 euro 17 euro e 98 per i più coraggiosi un gol in colonia dusseldorf così me la butto lì però ripeto vedendo anche le quote e tutto quanto sembrerebbero i gol molto molto favoriti quinta bollettina bosburg gol piove schalke 04 ausburg gol piover mainz lipsia gol piovere colonia dusseldorf gol piover i gol piover non sono favoriti proprio di più di più tranne forse una partita gli altri proprio libido infatti con 5 euro paga solo 73 euro e 79 poi vedete voi ultima bollettina fissa più gol bosburg 2 più gol schalke 04 ausburg 1 più gol mainz lipsia 2 più gol e colonia dusseldorf 1 più gol con 2 euro se ne vincono 208,69 con 5 euro 521,73 secondo i bookmaker l'unica partita oltre a colonia dusseldorf ma la differenza è dello 0,05 quindi non sono stato lì a fare il cambio perché è proprio infinitesimale e schalke 04 ausburg in cui l'uno più no gol è favorito anche di un po' 0,70 quindi io ho fatto anche la bollettina alternativa col no gol di schalke ausburg quindi bosburg norma 2 più gol schalke ausburg 1 più no gol mainz lipsia 2 più gol colonia dusseldorf 1 più gol in questo caso con 2 euro se ne vincono 174,77 scusate e con 5 euro 436,94 detto questo io vi saluto vi ringrazio e con le schienine e bollettine del gigione ci vediamo se non erro nel prossimo dell'infrasettimanale perché se non sbaglio in germania giocano anche il prossimo martedì se non sbaglio se no ci vediamo venerdì ciao 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 Grazie.